andiamo a fare un altro esercizio sulla legge di Dalton per l'idrogeno e azoto in tre composti diversi sono stati ottenuti i seguenti dati allora faccio una piccola tabellina nel composto A la massa dell'azoto è 0,500 g e la massa dell'idrogeno è di 0,108 g poi nel composto B ho 1 g di azoto e ho 0,0720 g di idrogeno nel composto C invece ho 0,750 g di azoto e 0,108 g di idrogeno l'esercizio ci chiede mostrare che questi dati sono in accordo con la legge di Dalton e poi ci dice anche se la formula del composto B, cioè questa, è N2H2 quali sono le formule del composto A e del composto B? allora, su questa parte del problema ci torniamo fra poco prima andiamo a verificare se questi dati sono in accordo con la legge di Dalton allora, come facciamo? innanzitutto rispetto agli altri problemi che abbiamo fatto qui abbiamo tre dati, tre composti facciamo una cosa semplicissima, cioè normalizziamo questa tabella al fine di avere una delle due masse sempre la stessa in questo caso posso normalizzare la tabella per l'azoto cioè faccio in modo tale che io ho una massa di idrogeno che si combina con un g di azoto nel composto B già ce l'ho adesso devo farlo nel composto A e nel composto C come faccio? allora, facciamo nel caso del composto A se io ho 0,500 g di azoto ogni volta che ho 0,500 g di azoto mi si combineranno 0,108 g di idrogeno ma se io avessi un g di azoto che quantità di idrogeno mi si combinerà con questo 1 g di azoto allora, è facile basta fare il doppio però noi svolgiamo correttamente la proporzione basta fare x uguale 0,108 per 1 diviso 0,500 è uguale 0,108 per 1 vabbè, diviso 0,5 vedete? 0,216 esattamente 0,216 quindi mi posso scrivere al lato che il rapporto per 1 g di n con 0,216 g di idrogeno per il composto B andiamo a normalizzare allora stesso ragionamento se io adesso ho 0,750 g di azoto si combinano con 0,108 g di idrogeno se io avessi 1,00 g di azoto allora qual è la quantità di idrogeno che mi si combina con 1 g di azoto? la chiamo y perché prima ho usato la x allora y è uguale 0,108 per 1 diviso 0,750 che è uguale 0,108 diviso 0,75 0,144 quindi mi riscrivo al lato che 1,00 g di azoto si combinano con 0,144 g di idrogeno qui per dare il composto A e qui per dare il composto C ok? adesso cosa faccio? magari per una maggiore chiarezza mi vado a riscrivere la tabella in modo tale che ho i risultati proprio ben visibili e allora composto A la massa dell'azoto è 1,00 g la massa dell'idrogeno è 0,216 g 2 1 6 il composto B già lo avevamo espresso in questa maniera 1,00 g 0,072 g di idrogeno nel composto C invece abbiamo 1,00 g e abbiamo ottenuto 0,144 g di idrogeno ora se andiamo a rileggere la legge di Danton ci dice che le masse di un elemento che si combinano con la stessa massa di un altro elemento quindi le masse dell'idrogeno che si combinano con la stessa massa di un altro elemento in questo caso l'azoto stanno tra loro le masse dell'idrogeno come numeri espressi come numeri che si possono esprimere da rapporti di numeri interi e piccoli ok d'accordo vediamolo praticamente allora nel composto A e nel composto B io posso esprimere i rapporti tra le masse di idrogeno sì certo allora facciamolo la massa dell'idrogeno in A fratto la massa dell'idrogeno in B è uguale a 0,216 diviso 0,072 facciamo questo rapporto 0,216 diviso 0,072 viene 3 vedete? un numero intero e piccolo adesso facciamo la massa dell'idrogeno nel composto B è la massima è la massa dell'idrogeno nel composto C è uguale a 0,072 0,144 se vado a fare diventa 0,5 che sarebbe un mezzo ok 0,5 è uguale a un mezzo vedete? rapporti espressi da numeri interi e piccoli qui infatti uno può dire vabbè ma qui non c'è rapporto in realtà no il rapporto c'è qui 3 e 1 il rapporto è 3 a 1 il rapporto qui è 1 a 2 adesso posso anche mettere in rapporto la massa dell'idrogeno in A con la massa dell'idrogeno in C e vedere che cosa succede massa idrogeno in A fratto massa idrogeno in C è uguale 0,216 fratto 0,144 0,216 diviso 0,144 1,5 questo non è un numero intero benissimo non lo posso riportare un numero intero cioè 15 decimi e 15 decimi è ancora suddivisibile diviso 5 ottengo 3 mezzi ok vedete stanno tra loro come rapporti che è possibile esprimere da numeri interi e piccoli 3 sta a 2 3 sta a 1 1 sta a 2 ovviamente che cosa la massa dell'idrogeno in A è 3 volte superiore della massa dell'idrogeno in B che si combina sempre con un grammo di azoto la massa dell'idrogeno in A è diciamo per 3 masse di idrogeno in A si combinano 2 masse di idrogeno in C ok è 3 mezzi e qui invece posso dire che la massa di idrogeno in C è il doppio di quella in B che si combinano con un grammo di azoto ok può essere letta in tante maniere ora noi abbiamo utilizzato la normalizzazione dell'azoto ma potevamo tranquillamente utilizzare la normalizzazione dell'idrogeno e fare il ragionamento diciamo inverso nel senso fare i rapporti tra le masse di azoto che si combinano con la stessa massa di idrogeno cioè riferito a un grammo quindi dipende questa tipologia di problemi dipende sempre da quale punto di riferimento possa prendere io ok adesso andiamo a riprendere la seconda parte del problema cioè il secondo quesito che ci dice se la formula del composto B è N2H2 allora quale sarà la formula del composto A quale sarà la formula del composto C dunque possiamo procedere in questo senso dunque prendo la tabella normalizzata questa e mi scrivo che il composto B ha la formula come dice il mio problema N2H2 ora devo andare a vedere i rapporti di masse tra le quantità di idrogeno che si combinano ok con la stessa quantità di azoto ora se vedete qui si combinano due atomi di idrogeno con una quantità di azoto l'idrogeno nel composto A è tre volte superiore all'idrogeno nel composto B quindi se è tre volte superiore se io nel composto B ho due atomi tre volte superiore significa che avrò sei atomi per cui H6 e la massa dell'azoto è sempre la stessa quindi N2 questa è la formula del composto A stesso ragionamento per il composto in C allora se io ho che l'idrogeno nel composto B è uno vedete l'idrogeno nel composto C è il doppio vedete uno a due per cui se qui fissassi come una unità diciamo questo questi due atomi di idrogeno nel composto C è il doppio quindi qual è il doppio di H2 è H4 e N rimane sempre N2 quindi ho trovato la formula del composto in A la formula del composto in B e la formula del composto in C è il composto in C è il composto in C